Sono contento a livello personale ma è importante aver passato il turno di Coppa, soprattutto per noi che comunque giochiamo di meno e quindi è una vetrina importante per noi. Siamo contenti del passaggio del turno e sperando che questa vittoria ci sia lo rangio giusto per il campionato. È stato a lungo, ho preferito farlo andare avanti perché volevo calciarlo. A parte gli scherzi sono stati bravi loro, hanno calciato bene e poi alla fine non pensavo nemmeno dovessi calciarlo io, quindi sono andato sul dischetto e è andata come è andata, fortunatamente è andata bene. La granità è uno spettacolo, dal primo momento in cui sono entrato in questo stadio è uno spettacolo, quindi è un'emozione ancora di più poter aver potuto fare questa prestazione sotto la granità. Quando è arrivato il mister cerchiamo di seguirlo il più possibile, quindi ogni volta che veniamo chiamati in causa cerchiamo di dare il massimo per lui, per i nostri compagni di squadra e per questa tifoseria che sicuramente merita tanto. Siamo contenti, abbiamo sofferto un pochettino, siamo calati un pochettino, però siamo contenti del passaggio. Dobbiamo essere bravi a partire da questo passaggio, la forza del gruppo è l'unica soluzione, l'unico metodo che ci farà andare avanti, quindi dobbiamo contare su di questo, su di noi e su noi stessi e andare avanti per la nostra strada che usciremo da questa situazione.